salve a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui con il test mod di due cingolati della fiat trattori che hanno fatto la storia insomma devo dire molto molto apprezzabili io li ho già provati però in questo video infatti andremo a provarli con voi devo dire sono abbastanza soddisfatto di questi bestioni molto molto itinerari hanno un anno come dire se insomma hanno qualcosa di particolare che adesso andremo subito a vedere tra questi ho notato che la visuale all'interno si può anche cambiare non si può solo stare sul sodile di guida ma si può anche stare sul bordo sul lato e anche come dirle si può andare con cabina e senza cabina devo dire ve lo consiglio sono molto belli vanno veloci abbastanza niente andiamo a testare il primo che è il 160 barra 55 turbo fiat turbo infatti un attimo infatti ecco potete vedere che la visuale si può cambiare ma noi la mettiamo sul posto di guida sound molto a proposito del sound sound molto come da storia non si può perdere una cosa del genere avviamolo tanto ecco insomma il sound è uguale a quello reale più o meno aspettate che cambio il sound uguale a quello reale che dire andiamo a testare cosa c'è la domanda allora il rumore del cingolo ha fatto benissimo deve avere le vette che sono tirate dal fronte a meno ha distratto uno sterzo molto molto scattente velocità massimo sono giù sedici quindi allora che un'altra prova, pedagli, nero, tutto, una simuletta, grafica, potete cambiare sull'elettro per sinistra, un'altra prova, potete fare un'altra prova, potete fare un'altra prova, un'altra persona che potreste fare sui corsi di via. Fluxing, come il solito, tutto fluxing, nient'altro, non c'è un'altra cosa di particolare su questo. Dopo, per modificarlo, si, potete anche, ovviamente, mi piace la cabina, che è una resistenza, io preferisco senza cabina, con l'altra, perché è un'altra cosa, mi piaceva, e, magari, couldi scappamento, che ho fatto a troppo bene, un'altra prova, che non è più facile, e quindi, ci può diventare un cubo di scappamento fatto bene, e quindi, mi piaceva, in particolare, questo è il minigiro, Adesso tocca al 120 EV, infatti un'altra cosa, lo spegnimento del motore è molto, ma molto lento. Non talmente è tanto lento da aspettare l'anno della fame, però è un po' lentino, diciamo. Va bene, passiamo al Fiat 120 CV Turbo, devo dire che questo è molto bello, me l'ha consigliato il mio amico dalla Sicilia, che non faccio il nome per privacy. Devo dire, speciale, con cabina, sia senza che sia con cabina, con tutte e due. Leve, fate bene, andiamo sopra. Ecco, anche qui potete sempre notare la solita cosa del visuale. Allora, acceniamolo. Anche questo, questo sarà il mio motore più local, un altro quasi. Autore dei ritmi National Guirai Autore dei numeri Autore dei numeri Autore dei numeri Autore dei numeri Grazie. 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 Noi ci vediamo al prossimo video. Statemi bene. Grazie mille della visione. Buon feragosto e buone vacanze. Grazie. Grazie. Grazie.